Un anno fa in questa palestra iniziava la mia avventura su YouTube. Dopo un anno e ben 110 video più o meno, sono ancora qua, mi sto divertendo, non ho fatto grandi numeri, ma sicuramente questa avventura mi sta insegnando tanto sia dal punto di vista sportivo sia dal punto di vista dell'organizzazione, del creare dei contenuti per una piattaforma come YouTube. E adesso oggi sono qui per affrontare una fitness challenge inventata da me, non è che poi sia nulla di particolare, per festeggiare questo primo anno di video su YouTube che spero sia il primo di molti e che mi porti comunque anche qualche soddisfazione non che questo anno non me ne abbia portato, perché per me già portare dei contenuti a mio avviso di buona qualità è già un qualcosa di molto positivo. Quindi adesso finita l'introduzione molto veloce, ma passiamo subito alla fitness challenge e allo speciale per il primo anno su YouTube. Ovviamente in un anno, come ben saprete, ci sono 365 giorni, quindi mi sono chiesto cosa posso fare per 365 volte o con un peso di 365 kg. Ovviamente fare degli esercizi di bodybuilding per arrivare a 365 kg è estremamente facile, quindi ho scartato l'ambito bodybuilding e mi sono puntato sull'ambito corpo libero, che è quello anche che mi torna un po' più difficile, quindi rende una fitness challenge molto più interessante. Le trazioni le ho già portate, i piegamenti li ho già portati e di squat a corpo libero mi sembra una cosa veramente inutile. Non sapendo fare cose calisteniche, ho detto perché non portare una challenge sui burpees, un esercizio notissimo e alla base del crossfit, uno dei più utilizzati, e sicuramente molto molto difficile dal punto di vista aerobico, sicuramente non ha delle mie caratteristiche chiave. Quindi andrò ad eseguire 365 burpees, ovvero un burpees per ogni giorno dell'anno, nel minore tempo possibile. Vedrò quanto tempo ci metterò e poi ovviamente se voi volete replicare questa challenge lo potrete fare e magari scrivete anche qua sotto il risultato di quanto ci mettete in termini di tempo. Detto questo, iniziamo subito e mi sa che sarà un video bello lungo. Ovviamente non c'è nessun limite di tempo massimo, ma dobbiamo puntare a fare il minore tempo possibile. Io prenderò il tempo con il mio telefono, che ovviamente poi metterò il cronometro in sovraimpressione, e via via vi spiegherò anche come divido questi 365 burpees. Direi di iniziare al 3, 2, 1, via! Primo burpees and out! Allora, prime 15 andati. Direi che mantengo queste serie per una fattigliarmi troppo all'inizio e per avere un ritmo abbastanza buono. A 30, un minuto e 45. Mi prendo anche il banchettino per il recupero. Veramente molto difficile dal punto di vista aerobio. Andiamo verso il 45. Sento già le gambe molto molto cotte. Mi faccio un'altra da 15, poi mi sa che passo a 10, perché sto facendo i tempi di recupero forse un po' troppo lunghi. 60 70 6 minuti e 30 Pensavo fosse più facile. 3, 2, 1, va! 80 Ultimo giro e arriviamo a 100 E 100 100 in 10 minuti e 40 Quindi La media direbbe di farne 365 In una 40-45 minuti Appena riesco riparto con le serie da 15 Ne ritrovo una da 15 Meglio da 10 125 Doveva essere circa un terzo 140 Andiamo per altri 15 155 170 Un'altra serie Dovremmo essere a metà praticamente precisa 185 185 Andati Il bello è che sto andando di 15 in 15 Senza sapere effettivamente Quanti se ne fanno In un elemento specifico di crossfit Però 15 mi sembra La giusta via di mezzo Anche se i recuperi sono abbastanza lunghi 200 Adesso ricomincerò con le serie da 10 Sono veramente Cotto 210 Altre 15 serie da 10 E ci siamo Sicuramente È un ottimo modo per bruciare Qualche calorie Mala mia Altra serie da 10 E andiamo 220 Sto riprendendo un po' di ritmo Forse Sono partito un po' troppo forte Ehi Google Cos'è un burpees? Dice Wikipedia Il burpee È un esercizio G Nico che coinvolge 230 Dai 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 Sto sudando più che agosto E da novembre Allora 250 andate Arriviamo a 270 Quindi altri due serie da 10 E rinizio a fare quelle da 15 Uh 260 Manca circa un centinaio Adesso Facciamo 6 serie da 15 Per arrivare A 360 E poi Le ultime 5 Le facciamo in scioltezza Siamo a 35 minuti e mezzo Ora L'obiettivo dovrebbe essere Di stare sotto A 50 minuti Più o meno Per come si erano messe le cose Sarebbe già buona 285 E a 300 Ci siamo 20 20 Ne mancano solo 45 Ovvero 3 serie da 15 Se non muoio in questo video Li posso affrontare tutti Dai Non riesco più A dare forza Nel saltare In alto Ho le gambe Completamente a pezzi Comunque Ne mancano Solo due Io Vorrei ripartire La penultima Ne faccio altri due da 10 Mi vengono più pulite E sono tutte valide 20 secondi Ripartiamo Arriviamo a 45 minuti E iniziamo Entro 50 Ce ne vuoi stare O 10 O 20 Vediamo come mi sento Ultima serie da 10 20 secondi di recupero E completiamo anche questa challenge Ma perché Mi vengono in mente queste idee? Ultima Andiamo Uno Due Tre Quattro Cinque Sette Sette Otto Nove Nove Questo è l'ultimo E andiamo 365 burpees In meno Di 47 minuti Anche questa challenge È finita Direi che Abbiamo festeggiato l'anno su youtube In modo Diciamo molto molto onesto Il pump ringrazia Anche Il mio pollicino Veramente un buonissimo Allenamento Cardiovascolare Anche se Forse 365 Sono un po' troppi Niente Vi ricordo come sempre Di iscrivervi al canale Lasciare un bel mi piace E commentare Quando ci sono soprattutto Queste sfide Perché l'impegno fisico Vi assicuro non è male E soprattutto Replicatele Almeno Vedete anche voi Su quale livello Di attestate Il mio vi assicuro Il livello Medio basso Perché comunque A livello Cardiovascolare Zero A livello di crossfit Zero Quindi È solamente un modo Per mettere alla prova A me stesso Spero che questi contenuti Come sempre Vi piacciono E noi ci vediamo Come sempre sul canale Mi raccomando Iscrivetevi Perché stanno per arrivare Dei video Bomba Delle news Assurde Sull'home gym Sul mio allenamento Su come mangio E su ciò che andrò a fare In questo nuovo anno Su youtube Ci vediamo sul canale Fuuuuh